Quando ero piccola pensavo sempre a quando sarei diventata grande e credevo che sarebbe successo di colpo che un bel giorno avrei messo la sveglia presto fatto il caffè corso per arrivare quasi puntuale legato i capelli, tirato un bel respiro e poi, boom, grande Maria Teresa Pugliese, tocca a lei Oggi so che sei davvero grande solo quando sogni ancora di diventarlo